Ha ottenuto qualcosa Giorgio Melloni davvero oppure è la solita cosa che i governi tornano dall'Europa dicendo è andato tutto bene? Ma guarda io penso che i consigli europei sono una sede diplomatica, non sono una sede operativa e quindi non è che alla fine di un consiglio europeo c'è un risultato come fosse una partita di calcio 1-0, 2-0, 3-1. Il consiglio europeo è un campionato, delle partite vanno meglio, delle partite vanno meno bene ma è un work in progress. Il bene o peggio dipende dall'obiettivi che avevi e gli obiettivi non sono solo le cose che vuoi portare a casa ma anche le cose che vuoi stoppare. Adesso a caldo è difficile fare un bilancio ma non penso che si possa dare un risultato. Il consiglio europeo è quella roba lì. Vabbè Marco Travaglio sei d'accordo? Il consiglio europeo è più formale, meno sostanziale, però Giorgio Melloni dice che la questione sulla quale lei si batte, cioè sul fatto che l'Europa debba intervenire finalmente sulle questioni migranti, adesso è il centro del dibattito europeo, mentre prima no. I consigli europei, capita ogni tanto che producono anche dei risultati. Il recovery ai 209 miliardi all'Italia e 750 miliardi a tutto il resto d'Europa fu esattamente il risultato di un consiglio europeo che durò tre giorni nel luglio del 2020. Questa volta non c'è stato nessun risultato perché l'Europa non ha nessuna intenzione di risolvere il problema dei migranti per la semplice ragione che tutti i Paesi membri quando si affronta il tema dei migranti come quando si affrontano altri temi diventano tutti sovranisti. È difficile distinguere i sovranisti propriamente detti dai sovranisti de facto. Sappiamo benissimo i tedeschi sono sovranisti quando si parla di migranti, non soltanto urbani, diventano tutti urbani, diventano tutti meloni, ciascuno bada agli affari propri e sono ben felici che ci siano alcuni Paesi come l'Italia che essendo di prima prodo si sobbarcano la gran parte dell'accoglienza e sono molto preoccupati dal fatto che le persone che sbarcano in Italia valichino poi le frontiere e infatti vediamo come si comporta la Francia alla frontiera italiana, come si comporta l'Austria, come si comportano i Paesi d'Europa anche per quanto riguarda la tratta balcanica. Quindi se la Meloni non fosse il Presidente del Consiglio ma fosse il capo dell'opposizione avrebbe detto che il Governo non ha ottenuto niente, ma non si può nemmeno dire che è colpa della Meloni. Il problema è che non bisognerebbe suscitare aspettative su un problema che è probabilmente irrisolvibile e che comunque l'Europa non ha mai avuto alcune intenzioni di risolvere perché se crei aspettative dicendo o la soluzione o la ricetta, adesso vado là e go. È finita la pacchia, la campagna elettorale si è basata su queste parole, adesso in Europa cambierà tutto. Ha un approccio che sta facendo cambiare un po' le cose o ha un approccio come tutti i Presidenti del Consiglio? Ha un approccio che crea troppe aspettative, fa promesse che non può mantenere e quindi quando poi la gente tocca con mano che le promesse non vengono mantenute, quando passa l'innamoramento e l'infatuazione che è ancora in corso, sono passati pochi mesi dalle elezioni, uno poi alla fine va e dice ma che abbiamo ottenuto, qual è la soluzione? Che puoi dire che l'Europa ha capito il problema, ma io credo che l'avesse capito anche prima, l'ha capito talmente bene che ha deciso di non risolvere, i Paesi membri hanno deciso di non risolvere.